I numeri a volte possono semplificare un concetto più di tante parole. A Torino ci sono 1500 vigili per 1400 incidenti, ad Alessandria gli operatori di Polizia Municipale sono 64, gli incidenti 1013. Insomma gli agenti della Polizia Municipale di Alessandria sono ancora pochi ma nei prossimi tempi verranno ulteriormente implementati. D'altronde nella conferenza stampa di oggi che il comandante della Polizia Municipale Alberto Bassani ha tenuto insieme al vice sindaco Marika Barrera, l'assessore alla Polizia Locale Enrico Mazzoni sono stati proprio i numeri a farla da padrona per fotografare la realtà cittadina. Quello che emerge prepotente è un aumento costante degli incidenti stradali. Non siamo ai livelli del 2004 ma le statistiche ci parlano di numeri decisamente in aumento. 57 mila le violazioni al codice della strada di cui 4821 per eccesso di velocità con misuratore sul posto e 10 mila con rilevatori semaforici. Quasi un centinaio le persone che girano senza assicurazione dell'auto. I punti decurtati in un anno sono stati 34.372, gli incidenti sono 1036 di cui 5 mortali e 276 conferiti. Ed i numeri parlano chiaro anche per quanto riguarda gli illeciti edilizi. Su 125 cantieri controllati 100 sono state le notizie di reato. Addirittura c'era chi stava per costruirsi una piscina senza chiedere i permessi. Lo stesso per quanto riguarda l'attività di controllo ambientale. 356 gli illeciti amministrativi di cui 5 penali. Nei prossimi anni dovrebbero entrare in funzioni i semafori con il conto alla rovescia così come richiesto dalle normative e verranno posizionati anche i varchi elettronici nella ZTL. Sanzioni sì tante ma non per fare cassa. Ha ricordato l'ufficio sindaco oltre il 50 per cento delle infrazioni al codice della strada vengono reimpiegate per migliorare le misure di sicurezza.